Benvenuti in questo nuovo video, io sono ZGamePro, oggi siamo qui con un top 3 trick che è veramente bellissimo il primo si trova di qua vicino a queste case, non subito ma al secondo quindi qui, dovete andare in retromarcia quindi così e salire qua sopra, ho un po' distrutto l'auto e poi dovete andare avanti in questo caso la mia macchina non ci passa, non si sa neanche perché, tipo per nascondere le auto o fare scherzi ai vostri amici e roba del genere, ora vedo se trovo una macchina più bassa di questa e se la riesco a infilare dentro proviamo questa forse questa è più alta ma c'è tipo con una eh sì infatti è più alta di questa, sì molto più alta vabbè infilate la macchina dentro e e poi ve ne potete uscire cliccando triangolo o roba del genere allora si va, ripeto si va in retromarcia aspettate ragazzi, così e poi si va con la macchina tipo con una vacca lo potete fare poi per recuperare l'auto che voi uscirete fuori basta andare vicino al muretto e cliccare fare triangolo il terzo trick invece è questo che vi faccio vedere ora sempre con la banshee, io ve lo faccio vedere bisogna andare su select cioè non so come si chiama il tasto ma penso select e bisogna andare su sportelli veicolo e fate tutti oppure solo cofano è la stessa cosa ecco andate così e come vedete salterete un po' in aria ma niente di che allora bisogna fare così andate e andrete un po' in aria e questo è veramente bellissimo da fare con gli amici ora passiamo al terzo trick che vi potrà salvare il culo in senso tipo voi andate così e vi sbattete invece se voi andate tenete la fraccetta di giù premuta guardate ora vi faccio vedere tenete la fraccetta di giù premuta andate su un personaggio della storia come vedete io non mi sono schiantato ma sono davanti al veicolo oppure così vedete ragazzi non mi faccio niente ops ho sbagliato oh come vedete non mi sono schiantato no ora si però e come vedete vi salvate il culo e quindi molto utile poi viene un po' male usarlo si lo so e intanto uccidiamo un giocatore che è qua davanti quindi ragazzi questi erano i trick e sono veramente facili non sono neanche molto difficili e noi ci vediamo al prossimo video bella raga